Avevano messo in piedi un giro di società fantasma per coprire l'acquisto di pallets sul mercato nero ed evadere così il fisco. Questa è l'ipotesi di reato formulata dalla Guardia di Finanza che coinvolge 16 persone che avrebbe comportato una frode fiscale da 10 milioni di euro. L'inchiesta era iniziata a fine 2020 a seguito di alcune anomalie emerse durante dei controlli su una società della Piana di Lucca. L'indagine, portata avanti anche tramite intercettazioni, avrebbe quindi accertato come la società acquistasse pallets usati, verosimilmente reperiti sul mercato nero, e per mascherare la loro reale provenienza facesse emettere fatture false da società appositamente create e intestate a prestanomi. Al termine dei riscontri, le fatture false sono state quantificate in 10 milioni di euro per un'evasione fiscale stimata su IVA ed Ires di oltre 2 milioni. 16 le persone denunciate per associazione a delinquere finalizzata alla Commissione di Reati Tributari. Inoltre, il Tribunale di Lucca ha interdetto all'amministratore della società della Piana l'esercizio di qualsiasi carica societaria ed ha proceduto al sequestro di alcune disponibilità bancarie.